I carabinieri della stazione di Riola Sardo, su dissociazione della procura della Repubblica di Oristano, hanno arrestato due persone residenti a Riola Sardo e a Nuracchi, ritenute responsabili di due distinti episodi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti delle loro rispettive consorti. Il primo dovrà scontare una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti risalenti al 2020. Il secondo è stato arrestato e portato in carcere per fatti denunciati dalla vittima lo scorso mese di febbraio. Le indagini, immediatamente avviate dai militari, hanno permesso di accertare che l'uomo, oltre a maltrattare fisicamente e psicologicamente la moglie, la tenesse in uno stato di semiprigionia, viettandole di tenere qualsiasi tipo di rapporto al di fuori del proprio nucleo familiare. Anche questa volta, grazie al tempestivo intervento dell'arma e della magistratura, sono stati risolti due gravi casi di codice rosso. Mentre il sindaco Massimiliano Sanna nomina due consiglieri comunali per seguire lo sport e la sanità, l'Assemblea è stata nuovamente convocata dal presidente Beppi Puddu per il 14 marzo alle 18.30. Copioso l'ordine del giorno dell'Assemblea, con ben sei interpellanze presentate dai consiglieri del centro-sinistra riguardanti la chiusura del passaggio a livello di via Francesco Baracca, il decoro della città, le dimissioni del direttore della fondazione oristano, il dissesto e precarietà delle strade a fondo naturale, lo stato dei lavori nel campo di atletica leggera ed infine i piani personalizzati in capo alla legge 162. Altri tre punti riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e spese processuali, infine una variazione di bilancio e l'aggiornamento del piano Natura 2000. Per quanto riguarda le nomine dei consiglieri delegati si tratta di Francesco Pinna allo sport che per conto del sindaco ne seguirà le problematiche mentre i problemi della sanità sono stati affidati al consigliere Paolo Angioi. Il Consiglio Comunale di Oristano si riunirà in sessione straordinaria giovedì 16 marzo alle ore 11. Ci sarà anche l'assessore regionale alla sanità Carlo Doria. Un momento di confronto di grande importanza per Oristano, siamo costantemente impegnati sul tema della sanità per dare alla città e al territorio le risposte che aspetta, ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna. In questi giorni i sindaci del distretto sanitario ristanese sono impegnati a confrontarsi sul problema dei medici di base, anche alla luce del nuovo progetto pilota sugli ambulatori straordinari di comunità territoriale annunciato dall'ASL 5. A preoccupare maggiormente è l'ospedale San Martino. Siamo consapevoli del fatto che nessuno abbia la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma confidiamo nelle risposte che potranno venire dall'assessore Doria per guardare con più fiducia al prossimo futuro autosistema sanitario e assistenziale, ha aggiunto il primo cittadino ristanese. Intanto, l'assessore Doria ha inviato una comunicazione ai direttori generali delle aziende sanitarie isolane finalizzata all'apertura di avvisi rivolti all'assegnazione di incariche ai medici in qui e scienza, che non abbiano ancora compiuto 70 anni d'età e al personale del comparto, secondo quanto previsto dalla norma nazionale, emanata durante la pandemia. Una possibilità che, come indicato nella circolare dell'Inps del 6 settembre scorso, resterà aperta fino al 31 dicembre 2023. La possibilità di insegnare e incariche al personale in pensione rappresenta chiaramente uno strumento ulteriore rispetto a quelli già messi in campo per rispondere alla carenza di medici nei reparti ospedalieri. L'obiettivo è quello di dare soluzioni rapide ed emergenziali. Nel cartellone affisso nella piazza principale del paese di Zediani campeggia la scritta AAA medici di base cercansi, frase che sintetizza gli aspetti di una questione molto intricata. Nell'ambito 1.1, comprendente Zediani e altri 5 comuni, tantissimi cittadini dallo scorso agosto ad oggi, hanno perso, per via dei meritati pensionamenti, il proprio riferimento principale in termini di assistenza medica di base, tema discusso nel corso dell'assemblea pubblica svolta all'ex Monte Granatico. Io e gli altri amministratori quotidianamente riceviamo richieste di informazioni di consigli, percependo la preoccupazione e lo sconforto di chi non trova un medico e ha bisogno di prescrizioni per i farmaci e adeguata assistenza, ha affermato il sindaco Claudio Pinna. Potremmo stare ore a cercare i motivi che hanno portato ad avere questa situazione. Pochi medici disponibili, medici in numero sufficiente ma mal distribuiti nel territorio regionale, si sente dire che nessuno vuole più fare il medico di medicina generale. Si parla di politiche rarte da anni, di numero chiuso nelle università, della troppa burocrazia e via dicendo. A prescindere dalle cause è chiaro che ormai l'emergenza è totale. Il Consorzio Industriale di Oristano, a differenza degli altri dell'Iso, sin dalla sua Costituzione è stato sempre un centro di potere in capo all'allora partito della democrazia cristiana che vi ha allevato e nutrito parte del suo gruppo dirigente locale. Una fase dove stanno scritti nomi e cognomi del recente passato con discendenti che oggi si ritrovano all'interno dell'ente a ricoprire funzioni di responsabilità. Un ente di potere dalle illimitate risorse finanziarie derivanti dalle generose contribuzioni pubbliche e dalle attività poste in essere dal collaudato staff che dall'interno amministra e gestisce il business dell'acqua, dei rifiuti, dei lavori pubblici e altro. Consorzio visto e considerato come una entità impenetrabile dove si vive garantiti dal potere acquisito e se prima la protezione aveva come targa lo scudo crociato, ora a sorvegliare che nulla turbi l'operare degli apparati del Consorzio è sceso in campo il Partito Democratico che punta a riconquistarne la Presidenza. L'attenzione della provincia di Oristano alla lotta contro le zanzare è molto alta. Al momento sono in programma, sino al 17 marzo, gli interventi nei comuni di Oristano e frazioni Tutti gli interventi nei comuni sono ripetuti periodicamente nel corso dell'anno. Nella lotta contro le zanzare risulta determinata anche l'apporto dei singoli cittadini che nelle proprie pertinenze dovranno evitare la formazione di ristani d'acqua di qualsiasi entità, trattare i possibili focorai non ammovibili con prodotti biologici facilmente reperibili nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti agrari o per giardinaggio, curare il verde con sfalcio e potature periodiche evitando accumulo di materiali inutilizzati e di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare. Il 30 maggio scadono i termini per la presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo. L'avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Oristano presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico e il Servizio Informa Città. Martedì 14 marzo i tecnici di Abanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria del serbatoio pensile di Uras. Nel dettaglio sarà installato un nuovo misuratore dell'acqua in uscita dall'impianto e distribuita nella rete idrica comunale. A beneficiarne sarà l'intero sistema di approvvigionamento del centro abitato. I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 13. Durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni e cali di pressione. L'erogazione sarà ripristinata prima dell'orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo. Mercoledì 15 marzo alle ore 15 presso il Centro Servizi Culturali Ulla di Oristano sarà presentato il SERD, Servizio Pubblico per le Dipendenze Patologiche del Sistema Sanitario Nazionale istituito dalla legge 16290. È un'unità operativa facente parte del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Asio di Oristano, deputata all'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze. Attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali specializzate, medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e educatori, il SERD svolge la propria attività con l'obiettivo di garantire la presa in carico personalizzata delle persone affette da abuso o dipendenza da sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale. Trasformare il nostro mondo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il titolo dell'incontro in programma venerdì 17 marzo alle ore 18 a cura del CEAS Aristanis che lo organizza nella propria sede ospitata nei locali comunali dello spazio giovani in via Morosini a Sarodia. All'incontro, che ha lo scopo di presentare e illustrare le finalità dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, hanno assicurato la presenza gli assessori all'ambiente della regione del Comune d'Oristano, Marco Porcu e Maria Bonaria Zedda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.